Buongiorno ragazzi, buongiorno prof, sto facendo lezione a scuola, prof, scusate ragazzi dovevo avvisare i miei followers sui social che sto facendo lezione, allora avete fatto i compiti che c'erano per oggi? Sì, per oggi ognuno di voi doveva scattarsi una foto, pubblicarla sui social e poi io avrei dovuto valutarvela, Natascia fammi vedere la tua foto, dai, non mi sono fatta una foto, perché? Non sono molto brava a farmele, è difficile per me, ragazzi dovete capire che scattarsi le foto e avere tanti followers sui social è importantissimo adesso, se no che lavoro farete nel futuro? Il dottore? Nessuno fa il dottore adesso, dovete tutti diventare degli influencer, posso andare in bagno? Hai raggiunto almeno 400.000 followers sui social? No E allora non ci puoi andare in bagno, sapete quali sono le regole?